VINCO IN VOLO VIVO VIVO Allora, ti vuoi portare un buono o no? Voglio che mi tiri so però, c'è la termica qua Ok, così abbiamo preso un ascensore subito in decollo siamo già a 1.152 metri, io sono sotto Binko cerchiamo di rifiungerlo, da in alto c'è il punto Vittorio stiamo salendo a più 2 2.5, 3.2, 3.4, 3.5 la giornata è ancora rubosa a fuori di parlare mi sono levato dalla termica l'anorama non è stupendo oggi perché non è limpido a fuori di parlare a fuori di parlare a fuori di parlare Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info